Buongiorno, confesso che sto mettendo un timer perché sono un avvocato logorroico per definizione, poi nel mio caso alla logorrea professionale si aggiunge quella personale e grazie mille e sarei bugiardo se non vi dicessi che questa è una giornata che nasce l'altro ieri, questa giornata nasce quando non portavamo i cappotti nel corso di questa primavera, nasce grazie alle conversazioni con molti di voi, oggi si riunisce una comunità di fatto, la comunità dei responsabili di transizione digitale, poi c'è chi ha la nomina, chi non ha la nomina, ma insomma come spesso si è, si è RTD per vocazione, molto spesso prima che per nomina, decreto, delibera, determina, bollata, registrata, vidimata con quanto ne consegue, quindi sì, tutti qui per quanto di competenza, si direbbe con gergo burocratico, siete responsabili per la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni, delle vostre amministrazioni e chi vi parla è un cittadino digitale, o almeno questo aspiro ad essere, questo è il mio titolo in questa sede. E parlando con voi, parlando con le persone con cui ho la fortuna di lavorare tutti i giorni e che hanno contribuito, ma spero di avere la lucidità per ringraziarli dopo, a realizzare l'incontro di oggi, è emerso il tema, la dico brutta, della scomodità del ruolo di RTD. Essere RTD significa dover fare la transizione digitale tra tante altre cose che si hanno sulla scrivania, ahimè ancora troppo spesso cartacea, dell'ufficio e quindi sicuramente essere RTD significa avere bisogno di aggiornamento, aver bisogno di informazioni, avere bisogno di indicazioni, aver bisogno di conoscere buone prassi, ma essere RTD significa anche avere bisogno di evitare la solitudine dell'RTD, la chiamo così. Cioè molto spesso l'RTD è quello che all'interno dell'organizzazione, non sempre per fortuna, però viene visto come la causa del modo di cambiare la routine lavorativa, la causa della riorganizzazione, la causa del dover capire che i gesti che si facevano prima la mattina entrando in ufficio devono cambiare perché cambia il nostro modo di lavorare e quindi diciamo che non sempre è un ruolo comodo all'interno delle organizzazioni. E quindi avere la possibilità di mettervi in rete, cioè di poter condividere problemi, soluzioni possibili, perché le soluzioni sono sempre possibili è sicuramente una delle motivazioni per cui abbiamo deciso di riunirvi e devo dire la vostra risposta tanto in termini di registrazioni quanto in termini di presenza evidentemente conferma che tutto sommato si trattava di una esigenza condivisa, assolutamente condivisa. Provo a rubarvi il tempo precedente a quello dei workshop per parlare della trasformazione digitale dell'amministrazione vista dalla prospettiva dell'RTD, ci sono tante visuali per guardare il tema dell'innovazione e della digitalizzazione, ce ne sono alcune sociologiche, ci sono tre oggetti che sono indispensabili per tutti i popoli a tutte le latitudini, le chiavi, il danaro e il telefono cellulare, questo lo dico perché molto spesso ci si dice ah ma non sappiamo se i cittadini sono pronti, i cittadini sono già abbondantemente pronti, provate a dire chi non ha un telefono cellulare ad esempio. E tra l'altro dice ma perché questo interessa la pubblica amministrazione e perché questo interessa un avvocato? Io sono Ernesto Berisario, conosco molti di voi, sono un avvocato specializzato in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, la scienza dell'amministrazione è quella branca del diritto amministrativo che esiste non da adesso e che studia l'evoluzione dell'amministrazione come se fosse un essere vivente, cioè è impensabile ritenere che un'amministrazione possa rimanere identica a fronte di una innovazione, di una evoluzione come quella che stiamo vivendo. Questo è Rupert Murdoch, uno che di tecnologia se ne intende qualcosina, dice internet è stata l'invenzione più importante che ho visto e lo sarà per secoli, non dice per decennie, dice che lo sarà per secoli. Un'altra persona che sicuramente si intendeva di scienze e di progresso, Rita Levi Montalcini, intervistata, dice la più grande invenzione del Novecento e me lo chiede internet, cioè non c'è dubbio, non c'è esitazione, visto dalla visuale di un premio Nobel, impossibile pensare che nella pubblica amministrazione questo non abbia un impatto, non possa avere un impatto. Eppure molto spesso la percezione dell'amministrazione, perché attenzione noi dobbiamo fare assolutamente i conti con la percezione, la percezione è che l'amministrazione non sia al passo con i tempi, o non sia stata in grado di governare questo processo. Questo perché lo dico, chi mi conosce lo sa, sono contrario alla retorica dei fannulloni, anzi da figlio di dipendente pubblico so che l'amministrazione italiana è una miniera di talento, passione, entusiasmo nonostante tutto. Però qual è la percezione della pubblica amministrazione? Attenzione, la percezione è non in Italia, la percezione è da non addetti ai lavori. La percezione è questa. Provo a... In effetti, ora che ci penso, ho un carissimo amico alla motorizzazione. Chi ha bimbi in età da cartoni conosce lo spezzone. Lo spero tanto, è una corsa contro il tempo e ogni minuto è prezioso. Aspetta, sono tutti bradipi? La Walt Disney deve rappresentare un ufficio pubblico nella città di Zootropolis, cartone premio Oscar e ovviamente l'ufficio è fatto da bradipi. Quindi le nuove generazioni stanno crescendo pensando alla pubblica amministrazione come un cuovo di bradipi. Hai detto che ci avremmo messo poco! Cosa non starai dicendo che un bradipo non può essere rapido? A Zootropolis ognuno può essere ciò che vuole. Flash, flash, cento metri in un flash. Sono contento di vederti. Sono contento anche io. Ehi, Flash, vorrei presentarti la mia amica. Tesoro, ho dimenticato il tuo nome. Agente Judy Ops, rapidizzata, come va? Devo ammettere che va... Bene? Bene. Sto alla grande. Cosa non ancora posso fare? Beh, speravo che potessi identificare... Beh, speravo che potessi identificare... Oggi? Beh, speravo che potessi identificare una targa ed è anche molto urgente! Qual è il numero della... 29TH... Targa? 29THD03 Ora, mentre vedete Flash che digita sulla tastiera il numero della targa, semplicemente per riflettere, immaginate quante volte siete andati su un servizio online con l'informazione che volevate... 9THD03 O con la cosa che volevate fare e quanti passaggi ci avete messo. Ogni click di Flash è un click che avete fatto in quella procedura online. D03 D03 Vietato pensare a colleghi che non sono presenti, eh? Guardando questa immagine. Ehi Flash, ti faccio un indovinello? No! Sì! Bene. Come si chiama? Un cammello a tre gobbe? Non so. Come si chiama un... Cammello a tre gobbe. Cammello a tre gobbe. Incinto! Ah! 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 Sì! Divertente! Molto divertente! Ora potremmo concentrarci sul... Aspetta, aspetta, aspetta! Priscilla! Oh, no! Sì? Flash? Come? Sì. No! Un cammello a tre gomme incinto! Un cammello a tre... Per favore, non... Benissimo. Questa nota, spero, non stonata della giornata. Tra l'altro invito che in piedi ci sono dei posti... Sì, sì, sì. Dai, grazie. Ancora liberi qui avanti. Te! Vediamo l'intestatario... Tundratown Lemoservice! Otterton ha preso una limusina e quella limusina è a Tundratown! È a Tundratown! Sei stata una scheggia, bel lavoro, ti adoro! Svelto! È quasi l'ora di punta e... È notte! Perfetto. Sono entrati che era giorno, sono andati all'apertura dell'ufficio, sono usciti che c'era notte. Francamente non avrei saputo pensare ad una soluzione, ad una fine... Sono quattro minuti, ma davvero molto rappresentativi di... Da un lato luoghi comuni, dall'altro la percezione. La cosa che è inquietante, io spero... Insomma, ho una bimba piccola, stiamo lavorando tutti qui dentro, vi sono grato perché la percezione di mia figlia non sia questa, però mia figlia al momento della pubblica amministrazione, un cartone della Disney, le dà questa percezione. Quindi dobbiamo lavorare contro un'aspettativa, e tutti i vostri figli, assolutamente ben evidente. E allora, la digitalizzazione è la soluzione. Ma quale digitalizzazione? Attenzione, vi cito una frase, vi ho svelato il finale nella rivelazione della fonte, che proviene dal rapporto della commissione Giannini sullo stato della pubblica amministrazione. Cioè nel 79, 40 anni fa, un ministro della funzione pubblica insedia una commissione che al Parlamento dà un rapporto. Ovviamente voi potete immaginare, nel rapporto si diceva, 79, che uno dei principali problemi dell'amministrazione dello stato era la carta. Cioè, il fatto che il cartaceo fosse un problema dell'amministrazione non è che è certificato da adesso, nemmeno dagli anni 90, dal 1979. Una delle cose interessanti è che in questo rapporto si parla anche dell'informatica. All'epoca c'erano i primi CED delle amministrazioni. Che cosa dice? Il giudizio è nel complesso che vi siano troppi elaboratori sottoutilizzati e mancanza di raccordi. Cioè, non bisognava aspettare il consolidamento dei CED delle pubbliche amministrazioni. Giannini, nel 1979, quando i CED erano 5, 10, 15? Figuriamoci oggi che ce ne sono 11 mila. Tendenzialmente i problemi sono stati sempre gli stessi. Però guardate, qual è l'approccio all'informatica della commissione Giannini? L'approccio è il fatto che i sistemi informativi non servono più alle amministrazioni per fatti di gestione interna, ma servono proprio per amministrare. Cioè, si proiettano sempre più verso l'esterno. Quindi l'idea di evoluzione dei sistemi informativi, se ne parlerà anche nella giornata di oggi, non soltanto come un'infrastruttura che serve all'amministrazione, la posta elettronica, il computer per l'utente, ma come una struttura per l'erogazione di servizio da dare all'utente, è fondamentale. E le diverse norme della pubblica amministrazione digitale ci hanno provato nel corso del tempo. Sono un avvocato, sapete, mi occupo di codice dell'amministrazione digitale, che dal 2005, data in cui è stato adottato per la prima volta, fino al 2018, data in cui il 27 gennaio di quest'anno entra in vigore il decreto correttivo, il 217 del 2017, ha fatto diversa strada. Il legislatore ha più o meno imparato dai suoi errori progressivamente, ma si sa che il legislatore è fallibile per definizione, quindi soltanto un legislatore, come dire, soltanto una legge è giusta, ma solo per chi ci crede, ovviamente, nemmeno per tutti gli altri. Il codice dell'amministrazione digitale disegna un'amministrazione digital by default, diceva prima la dottoressa Maggiori, che ringrazio per la sua introduzione, dicevo, disegna un digital by default, un'amministrazione digital by default, che ci ha messo molti anni per arrivare. Io immagino che molti di voi che hanno iniziato a occuparsi di CAD nel 2005, come me nel 2004, quando ci fu la prima versione, vedo amici, Roberto Scano, legge sull'accessibilità, la 4 del 2004, abbiamo iniziato a occuparci di queste cose praticamente 20 anni fa, eppure ci sembrava molto lontano. La frustrazione di oggi, paragonatela a quella che avevamo nel 2005 o nel 2006, che non sapevamo se il processo di trasformazione digitale sarebbe davvero arrivato a definizione. Oggi tutto sommato funziona, io utilizzo questa slide per dire che il futuro è arrivato, è una litografia francese, un concorso che fecero per pittori nel 1910, immaginate il mondo nel 2000. E devo dire che tutto sommato non ci sono andati molto lontani, le cuffie, i dispositivi per le videochiamate e per le videoconferenze. Quindi tutto sommato la stessa cosa è successa anche con l'innovazione digitale nelle pubbliche amministrazioni. Quando abbiamo cominciato con le norme, forse eravamo troppo ottimisti, era il 2005, ci abbiamo messo un po' per arrivare, ma io credo che se chiedessi a tutti voi quanta carta arriva oggi dagli utenti, sicuramente molta di meno solo rispetto a 2-3 anni fa, nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva accelerazione del processo di innovazione digitale, che ovviamente è lungi dall'essersi concluso, uno dei responsabili di questa accelerazione è sicuramente il codice dell'amministrazione digitale. Il codice dell'amministrazione digitale è necessariamente per un'amministrazione la fonte del cambiamento. Perché? Perché esiste una norma che si chiama articolo 97,1 della Costituzione, che sancisce un principio, perdonatemi se faccio l'avvocato per qualche secondo, che si chiama principio di stretta legalità dell'azione amministrativa, cioè mentre se un'impresa cambia una tecnologia, oppure decide che vuole lasciare la modalità tradizionale, può farlo tranquillamente perché così ha deciso la proprietà e il titolare, per una pubblica amministrazione si fa come prevede una norma e quindi finché non cambia la norma, ahimè, o fortunatamente, perché la norma è spesso garanzia, garanzia per gli utenti, garanzia di non discriminazione, garanzia di efficienza, garanzia di par condicio tra tutti i soggetti, quindi garanzia della tutela effettiva dell'interesse pubblico, se non c'è quella legge non si possono fare le cose e allo stesso tempo non si possono fare in modo diverso dalla legge. Ecco perché è molto importante che le leggi siano scritte bene, perché è impossibile, almeno per la pubblica amministrazione, fare a meno di leggi. Le leggi devono dare dei principi, le leggi devono dare delle indicazioni che consentano poi a ciascuna realtà amministrativa di poter operare. Ed è per questo che il ruolo e l'istituzione del responsabile di transizione digitale è davvero importante e centrale. E la trasformazione digitale della pubblica amministrazione è un cambio di passo, una rivoluzione epocale. Perdonatemi, forse sono di parte, perché quando parlo di amministrazione digitale le mie due anime di diritto amministrativo e di diritto delle tecnologie si incontrano e quindi probabilmente sono di parte. Ma io credo che sia la vera riforma dell'amministrazione, cioè grazie al digitale si riuscirà ad avere risultati ed esiti che le altre riforme non avevano portato. Non so se lo conoscete, cos'è questo logo? Questo è il logo del Dagen Eich. Il Dagen Eich è il 3 settembre del 1967 in Svezia. Ci fu il cambio da guida a sinistra a guida a destra. E ovviamente, una rivoluzione copernicana è anche quella. Ovviamente vi faccio vedere due foto del Dagen Eich. Primo giorno. Questa foto la preferisco. Guardate lui, guardatelo. Lui è chi lavora nell'amministrazione digitale in Italia. Si mette le mani nei capelli, si guarda. C'è un vecchio che ancora continua ad andare con la guida a sinistra e qualcuno che prova la guida a destra ma non trova la corsia a sgombra. Dove ci troviamo noi? Secondo me è un po' meglio rispetto a qui. Però non mi stupisce questa slide e questa citazione storica. Serve a dire che non mi stupisce il fatto che ci sia della confusione, il fatto che ci siano dei problemi. Anzi, paradossalmente, ve lo dico anche da giurista, ce ne sono stati molto pochi di problemi rispetto a quelli che potevano esserci. Io guardo le sentenze con la giurisprudenza. Francamente, quando ho visto le norme, pensavo mamma mia, chissà come saranno interpretate, sarà difficile. Ormai, visto che siamo nel 2018, abbiamo sentenze di Cassazione, di Consiglio di Stato, di Commissione Tributaria, di Corte dei Conti, che invece stanno andando tutti nell'ottica del consolidamento di questa attività. E quindi se io vedessi oggi come si cammina in Svezia, la guida è ordinata, pulita, precisa, non ci sono incertezze, sanno tutti quali sono le regole che devono osservare ed arrivano tutti a destinazione. Ecco perché in questa transizione, in questo Dagenhage dell'amministrazione italiana, il ruolo del responsabile della transizione digitale è un ruolo centrale. Siete centrali. Qui ci sono seduti in questa sala responsabili di transizione digitale, cartoncino blu, beige blu, e soggetti che collaborano con il responsabile della transizione digitale, cartoncino giallo, ma questo ve lo dico semplicemente per sapere se il vostro vicino, se non lo conoscete, è un RTD o non lo è. Una piccola guida, no? Significa consentirvi di entrare in rete. Dicevo, il responsabile per la transizione digitale ha scolpita questa norma che è l'articolo 17,1 del codice della pubblica amministrazione digitale, che è la norma istitutiva dell'RTD. Quindi, attenzione, io credo che questa norma ci disegni la figura di un soggetto. Innanzitutto, guardiamo, ciascuna delle pubbliche amministrazioni leggiamo di sé affida ad un unico ufficio dirigenziale la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Allora, leggendo questa norma, io cosa leggo? Innanzitutto, ufficio responsabile per la transizione digitale. Partiamo dalla parola ufficio. Gli amici nerd lo sanno, questo è il consiglio dei Jedi. A cosa mi serve questa slide? La transizione digitale non è un lavoro per uomini o per donne sole. È un lavoro di team. E attenzione, questo io lo ricavo dalla lettura della norma. Non è un mistero che l'istituzione responsabile di transizione digitale sia stata ricavata quasi in modo parallelo dalla attività del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tra l'altro la dottoressa Maggioli mi faceva prima riflettere che potrei dire che l'RTD ha una riunione con l'RPCT per parlare con l'RPP. Non lo so. Sono le sigle della pubblica amministrazione. Effettivamente sono un elemento di inaccessibilità della stessa. Però alcune volte sono pratiche. Diciamo che come gergo per iniziati funzionano. Non le esporremo ai non addetti ai lavori. Altrimenti facciamo la figura del flash di turno e non è carino. Dicevo, mentre il responsabile per la prevenzione della corruzione voi lo sapete articolo 1 legge 190 2012 cosa mi dice? Mi dice che il responsabile è un dirigente. Quindi il lavoro di prevenzione della corruzione per il legislatore per quanto complesso è affidato a una persona. Quando il legislatore invece deve capire chi si occupa della transizione al digitale dice che se ne occupa un ufficio. Perché la transizione digitale, che non è una cosa che si può fare nel tempo libero evidentemente, ha bisogno di risorse, ha bisogno di competenze, ha bisogno di team multidisciplinari. Poi spero ci sia il tempo per poterlo vedere con ancora maggiore attenzione. Sicuramente lo farete con il workshop e nel workshop. Responsabile, anche qui questo è importante. Il responsabile, etimologia latino, responde o respondes. Cioè colui che, boom, colui che garantisce, garantisce. Cioè il responsabile non è il manager della transizione digitale, non è il coordinatore della transizione digitale, è il responsabile. Cioè uno che ha un obiettivo. Qual è l'obiettivo? Attuare il CAD del piano triennale. Lì deve arrivare. Dopodiché ha tutti gli strumenti di direttiva, di controllo, eventualmente di segnalazione all'organo disciplina se dovesse servire. Uno si augura che non serva mai, però sappiamo che le organizzazioni gerarchiche hanno questa finalità e funzionano in questo modo. Quindi realizzare, avere un'organizzazione di questo tipo a cui demandare la transizione, lo dico questo perché poi magari in chiusura ne parleremo, verso un'amministrazione digitale, quindi parliamo di government, di digitalizzazione dell'amministrazione, ma anche un'amministrazione aperta. Quando parliamo di dati aperti, di open government, di partecipazione civica, il responsabile della transizione al digitale è molto più, anche se è stato inserito dal legislatore nell'articolo dedicato ai vecchi responsabili ST dell'amministrazione. Ma l'articolo come numero è rimasto lo stesso, l'articolo 17 del Decreto Legislativo 82 del 2005. Il contenuto è completamente differente rispetto a quello che era e ci dà un responsabile di transizione digitale che è un punto di riferimento all'interno e all'esterno dell'amministrazione. È un punto di riferimento all'interno perché naturalmente è il soggetto che decide la pianificazione e il coordinamento dei sistemi informativi, perché è il soggetto che si preoccupa della sicurezza informatica, perché è il soggetto che si preoccupa della diffusione dei sistemi all'interno dell'amministrazione, ma è il soggetto che è cardina anche verso l'esterno, perché diventa responsabile dei servizi, perché è responsabile dell'accessibilità per le persone con disabilità, perché è il comandante in capo degli acquisti ICT. Articolo U17,1, lettera Jbis, dice che è il responsabile di transizione digitale che ha potere di vita o di morte sugli affidamenti informatici. Questo per evitare che ogni ufficio continui a comprarsi il suo software della contabilità che magari non parla col protocollo. Abbiamo avuto delle cose che sono successe, le risate che mi fate evidentemente denotano come l'allegrochirurgo fatto suonare il paziente evidentemente ammalato, ma chi mi conosce lo sa, parlo solo di cose che conosco, le cose che non conosco le lascio ad altri, quindi sto facendo e faccio esempi che provengono dalla nostra attività quotidiana ed è per questo che il responsabile della transizione digitale è garante degli acquisti. Questo evidentemente gli da un potere molto forte all'interno delle amministrazioni, naturalmente un potere che deve essere accompagnato da conoscenze, staff, team e conoscenza quindi anche del mercato dei fornitori dell'amministrazione. Il responsabile ha una nomina che viene direttamente dall'alto, dove dall'alto è inteso nel vertice politico o amministrativo dell'organizzazione. Attenzione, questo lo dico perché il passaggio della nomina dell'RTD è stato un passaggio molto spesso sottovalutato. Voi nel corso della giornata avrete 16 workshop, affronterete diversi temi e diverse attività dell'RTD. A me a questo punto interessa ragionare sulla norma che vuole la nomina. Perché? Perché molto spesso c'è il sindaco, facciamo un esempio del comune, decreta che Ernesto Berisario è responsabile della transizione digitale. Quante ne abbiamo viste di queste nomine? Io tante. Quanti errori ci sono? Boh, praticamente tutti errori. Allora, A non si nomina la persona, abbiamo detto. Devo individuare un ufficio, poi a capo di quell'ufficio ho un responsabile. Quindi primo tema, io non ho nominato l'ufficio RTD, ma ho nominato un agnello sacrificale. Cioè metto lì quella persona, non ha staff, non ha risorse, non ha elencazione di responsabilità, non gli ho assegnato i poteri, voi lo sapete, scrivete per convocare le riunioni i vostri colleghi, i vostri colleghi non vengono, fate un questionario, una survey per sapere quali sono le priorità in materia di acquisti, oppure fate il sondaggio per rifare il manuale di gestione documentale, i vostri colleghi non vi rispondono perché pensano che sia una vostra curiosità. La nomina è uno strumento di lavoro, quindi usciamo dalla logica, non faccio l'avvocato per un secondo, la nomina è necessaria, è obbligatoria, lo dice la legge, però utilizziamo la nomina come primo strumento di lavoro dell'RTD. Se la nomina mi copre, la nomina mi consentirà di lavorare meglio. Che cosa ci deve essere all'interno della nomina quindi? Ci deve essere l'individuazione dell'ufficio tra quelli esistenti, quindi la nomina corretta è, quindi facciamo il caso dei comuni, dove magari c'è la giunta che ha le competenze organizzative, il sindaco che è l'organo di vertice politico, c'è prima una delibera di giunta, c'è prima un atto di giunta che individua l'ufficio, fa le dotazioni, poi ho il provvedimento del sindaco che a quel punto mi individua il soggetto responsabile, l'ufficio responsabile col dirigente. Con l'elencazione delle attribuzioni, questo ve lo dico perché se avete fatto delle nomine che sono precedenti al gennaio 2018, nelle vostre nomine potrebbe non esserci la competenza legata agli appalti informatici, agli appalti ST che è una competenza centrale, nel senso che anche il legislatore ha capito che gli affidamenti aiutano ad omogeneizzare l'applicazione delle norme all'interno delle strutture e ci deve essere un altro contenuto importante che è quello della definizione dello staff e delle risorse, quali risorse ho, umane, strumentali, da chi è composto il mio team per la trasformazione digitale. Qualche volta, perdonatemi se banalizzo, dico che si parla dell'A-Team della transizione digitale, voi ricorderete, non vi sono i dissacrante, nell'A-Team se ve lo ricordate, perché alla mia età tutti avevano un ruolo, c'era chi faceva il piano, proprio l'RTD, Hannibal, che era il capo, poi c'era chi riparava gli automezzi, chi guidava gli elicotteri e c'era uno che si chiamava Sberla, ve lo ricordate? Qual era la competenza di Sberla? Era proprio quella di prendersi gli schiaffoni al momento opportuno. Quando l'RTD dovrà designare chi andrà alle riunioni con i colleghi a prendersi le lamentele perché deve cambiare lo strumento, perché cambia la procedura, servono tanti Sberla all'ufficio responsabile della transizione digitale. Questo per darvi l'idea del fatto che le competenze che questo ufficio ha sono tante e sono importanti. E altro profilo centrale per il buon successo dell'RTD sarà quello di disciplinare i rapporti con le altre figure che lavorano sulla digitalizzazione dell'amministrazione. Questo perché lo sapete bene che uno dei fattori che frena la transizione digitale è proprio quello legato a pestare i piedi, coordinamento di chi è competenza a qualcosa. E quali sono le altre figure che sono presenti nell'interno dell'amministrazione? Il responsabile della gestione documentale, il responsabile della conservazione, il responsabile dei sistemi informativi, il responsabile della protezione di POR e PD, giusto per aggiungere una sigla alla nostra collezione. Poi se volete ci faremo un piccolo glossario. E tra l'altro nel caso in cui le amministrazioni non abbiano la possibilità di avere uno staff di questo tipo, perché qui, ripeto, usciamo dalla logica del ho nominato tizio, cioè c'è la nomina, c'è la parte burocratica. Io devo avere uno staff, devo avere un team che sia in condizione di poter arrivare. Allora, se non ce la faccio, il codice dell'amministrazione digitale, articolo 17, comuno 17 e si dice potete esercitarlo in forma associata, cioè mettervi insieme, individuare una figura, definire uno staff comune e condiviso. È ovvio che non provvedere adeguatamente oppure provvedere in modo scorretto espone l'amministrazione a una serie di responsabilità. Una delle cose frequenti che mi chiedono, ah vabbè ma avvocato non c'è scritto, che cosa succede se l'ente non nomina il responsabile della transizione digitale? Qui veniamo ad uno dei problemi, ci sono tante amministrazioni che evidentemente non hanno nominato un responsabile di transizione digitale. io ho scritto, tra le altre, la responsabilità per mancata nomina. Cioè, sono il sindaco responsabile della transizione digitale dell'amministrazione. Lo sono per definizione io. Cioè, se io lo nomino, che cosa vuol dire? Vuol dire che finché non lo nomino, le responsabilità sono le mie. Cioè, non è che non nominarlo significa che non ne risponde nessuno nell'organizzazione. Quindi, facciamo un esempio banale che non si verificherà mai, lo rassicuro Corrado Giustozzi, non c'è nessun comune che prende un CryptoLocker, vero? Non ne prende nessuno. Facciamo conto che il comune prende un CryptoLocker, non c'è niente, non ci sono misure di sicurezza minime, ci sono dei danni, non vengono osservate delle cautele, non parliamo del GDPR, parliamo proprio delle misure di sicurezza per le pubbliche amministrazioni. Chi ne risponde? È ovvio che se c'è un danno erariale ne risponde l'amministrazione, se c'è un'interruzione del pubblico servizio ne risponde chi aveva il ruolo giuridico di presidiare quel pezzo, fosse anche solo banalmente con un atto, con un provvedimento di nomina e non l'ha fatto. Questo lo dico perché a me non piace parlare di sanzioni mai, chi mi conosce lo sa, però se non vi dicessi che esistono delle sanzioni per chi non lo fa o per chi lo fa male, non mi racconterei il film completo con tutte le scene, quindi ho l'obbligo evidentemente di farlo. In questo contesto devo dire che ritengo molto utile che il Ministro Bongiorno, come uno dei suoi primi atti responsabili della transizione digitale, lo sappiamo in Italia molto spesso, le riforme sono state montate e smontate da governi, quindi dice vabbè ma sto RTD funzionerà anche adesso che è cambiato il governo, confesso che avere una circolare 3 del 1 ottobre 2018 sui responsabili della transizione digitale in cui tra l'altro il Ministro Bongiorno oltre a invitare tutte le amministrazioni che ancora non lo hanno fatto a nominare il proprio responsabile per la transizione al digitale dà una serie di indicazioni utili sia sugli atti di nomina che sulla componente di contenuto della nomina, per esempio la possibilità di costituire gruppi di lavoro, l'idea di fare tutta una serie di passaggi che io provo a ricapitolare all'interno di queste slide che vi ho inserito. Cosa deve fare il responsabile per la transizione al digitale? Innanzitutto verificare che esista una nomina e che la nomina sia completa ed adeguata. La seconda cosa a mio avviso è costituire un team di trasformazione digitale e poi predisporre una relazione di assessment in relazione ad obiettivi. Cioè io vengo nominato oggi responsabile per la transizione digitale, il piano triennale e il CAD mi danno degli obiettivi e dei traguardi, ma qual è il mio punto di partenza? Qual è la mia gap analysis? Si fa praticamente in tutti i settori, è impossibile prendere un lavoro di transizione digitale senza fare un'analisi tra, provo a dirla bene, tra l'esis e il to be. Cioè come facciamo le cose davvero e come dovrebbero essere, perché altrimenti come faccio a sapere quante risorse mi servono, come faccio a sapere quanti soldi, come faccio a sapere quanto tempo ci metterò per fare determinate cose? Diventa praticamente impossibile. E quindi l'idea di ragionare in termini di pianificazione, no? Cioè ogni amministrazione a quel punto e da questo punto di vista funziona il richiamo col livello di piano triennale di prevenzione della corruzione. Nel piano triennale di prevenzione della corruzione sapete che abbiamo due livelli, il livello ANAC, Piano Nazionale Anticorruzione, il livello di ogni amministrazione lo sapete perché ogni anno entro il 31 gennaio siete coinvolti nelle affannose attività di aggiornamento e pubblicazione del piano triennale dell'amministrazione. Allo stesso modo è ovvio che per il digitale abbiamo una strategia nazionale ma sarebbe impossibile il responsabile per la transizione digitale non sarebbe tale se non avesse il potere di avere dei suoi documenti strategici all'interno dell'organizzazione con degli obiettivi, tra l'altro obiettivi di cui risponde all'organo di vertice politico che lo ha nominato e quindi a cui deve in qualche modo rendicontare la propria attività. Sono partito da qui, gli obiettivi che mi sono dato sono questi, questi sono quelli che sono riusciti a raggiungere il classico principio di accountability che è quello che evidentemente dovrebbe guidarci. E poi arrivo ai due pezzi che sono molto importanti, quasi con tutte le organizzazioni con cui ho parlato ci siamo confrontati sul fatto che sia cruciale un duplice ordine di attività, il primo legato naturalmente al personale, quindi le attività di formazione, questo è fondamentale, tutti ho sentito dire in questi anni si tratta di una rivoluzione culturale, rivoluzione culturale senza attività di formazione degli operatori diventa praticamente impossibile, ovviamente significa fare le attività adeguate, giuste, non attività inutili, probabilmente eccessivamente dispendiose, quelle utili azzeccate. E poi organizzazioni di attività informative per gli utenti, perché il rischio burocratico che ho visto fare in alcune organizzazioni mi preoccupo per rispettare la scadenza di speed di pago PA, dice ma ai cittadini gli hai detto qualcosa? Dice vabbè ma chi se ne frega dei cittadini, cioè io l'importante è che sono pronto al 31 di marzo, poi dopo se il cittadino è pronto e allora lì la percezione di avere il flash di turno e quindi di essere di fronte ad un'amministrazione che non mi dà un servizio, non valorizzerebbe il grande lavoro che voi avete fatto. Bene, mi avvio verso la conclusione, però provo, visto che ho il compito piacevolissimo e allo stesso tempo gravoso di introdurre i lavori di questa giornata, di provare a lanciare oltre la lettura e la rilettura della norma, ripeto, il mio è uno start, una partenza, nelle condizioni perché un RTD possa lavorare sono queste, questo quadro. Se non c'è questo quadro è difficile che l'RTD possa arrivare a qualcosa di buono, se è solo, se non ha staff, se non ha risorse, se non ha copertura, se non ha un assessment e non ha degli obiettivi non andrà da nessuna parte. Tutte le attività che vi diranno i colleghi, che ringrazio tutti, quelli che parleranno nei 16 workshop, che mi hanno tutti, devo dire, in modo entusiasta dato la loro disponibilità quando li ho contattati ormai un po' di tempo fa, e devo dire, li ringrazio davvero perché ci hanno messo tutto il loro entusiasmo e la loro competenza, però loro vi parleranno di cose che se non c'è tutta la cornice di lavoro dell'RTD saranno affidati a improvvisazione frutto di casualità, sarà impossibile che arrivino come atto strutturato. E allora nel pensare a delle cose da portare a casa, dei punti, dei temi di attenzione, oltre a quelli che vi daranno i colleghi, mi sono venuta in mente quest'anno, sono 30 anni dalla pubblicazione delle lezioni americane di Italo Calvino. Probabilmente molti di voi le avranno lette, questo ciclo di lezioni fatte da Italo Calvino, ovviamente che avevano ad oggetto l'arte, la letteratura, ma in realtà come c'era scritto nella quarta di copertina dell'edizione originaria, le lezioni americane come sapete uscirono postume di Italo Calvino, la leggerezza, la rapidità, l'esattezza, la visibilità, la molteplicità dovrebbero in realtà informare non soltanto l'attività degli scrittori, ma ogni gesto della nostra troppo sciatta e svagata esistenza. Allora ho provato, ho detto ma sarebbe possibile applicare le lezioni americane alla digitalizzazione della pubblica amministrazione? Proviamo, proviamo ad elencarli questi valori, questi principi da portarci dietro. Il primo è la leggerezza, intesa come la leggerezza. Dice e scrive Calvino, dopo 40 anni che scrivo fiction, dopo aver esplorato varie strade, compiuto esperimenti diversi, è venuta l'ora che io cerchi una definizione complessiva per il mio lavoro. Proporrei questa, la mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso. Ho cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città, soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio. Quindi qual è il primo, la prima lezione che deve portare l'RTD in un'amministrazione tanto, forse troppo complessa, prima per chi ci lavora e poi per tutti gli altri, quella della leggerezza, del togliere peso. Guardate che quando l'articolo 17 del CAD mi dice che la mia prima competenza, una delle mie prime competenze è quella della riorganizzazione, significa togliere, togliere tutto ciò che è inutile, i visti sovrabbondanti, le decine di firme digitali che ci andiamo a recuperare per analogia rispetto a quello che facevamo con il cartaceo. Togliere, togliere, togliere in modo da poter essere veloci, snelli, da poter fare in modo che la digitalizzazione venga percepita come un vantaggio prima per chi lavora nell'organizzazione e poi per chi ci è all'esterno. La seconda lezione, il secondo principio da portare nel nuovo millennio amministrativo è quello della rapidità. Nella vita pratica il tempo è una ricchezza di cui siamo avari. In letteratura il tempo è una ricchezza di cui disporre con agio e distacco. Non si tratta di arrivare prima a un traguardo stabilito. Al contrario l'economia di tempo è una buona dose perché più tempo risparmiamo, più tempo potremo perdere. La rapidità dello stile e del pensiero vuol dire soprattutto agilità, mobilità, disinvoltura. Guardate, dopo il pezzo di Zootropolis, parlare di rapidità potrebbe risuonare addirittura scontato. Ma anche qui non parliamo soltanto di rapidità del servizio che noi stiamo dando all'utente. Parliamo della rapidità quando io vedo delle prassi organizzative che fanno dedicare ad un dirigente dell'amministrazione lo stesso tempo per leggere una circolare, allo stesso tempo per smistare una mail che potrebbe essere automatizzata direttamente da un sistema di gestione, sto dicendo che io di fatto non posso perdere il tempo necessario a studiare un problema, ad approfondire, ad impostarlo, a risolvere un problema che mi viene dai cittadini. Quindi questo tema della rapidità non è semplicemente un tema dell'essere smart perché così fa figo oppure perché è il tempo del momento. Significa concentrarci sul motivo per cui l'amministrazione ci ha assunto. Il terzo valore, il terzo principio è quello dell'esattezza. Lo stesso fastidio e intollerabile che provo io ogni volta che noto come sempre più spesso la parola anziché essere lucida immediatezza e nel contempo ricercatezza conoscitiva diventa trama tra cui nascondere e nascondersi. Ammaliante, cullare o ancor peggio infinito sproloquio su tizio su caio. Raramente ho avuto il piacere di scontrarmi con una limpidezza della parola che resta, quella autenticità della parola che non fugge via quale puro miraggio del momento. E purtroppo le forme attuali di comunicazione, e non aveva visto i social, anche e soprattutto quelle scritte svuotano sempre più la parola di autenticità e di significato. Anche qui è inutile parlare dell'importanza della prosa amministrativa, tanto quando scriviamo delle note organizzative, tanto quando ci dirigiamo agli utenti. Quindi attenzione, io poi molto spesso mi confronto, sono tutti molto concentrati sul GDPR nelle pubbliche amministrazioni, e tutti concentrati sulle misure di sicurezza informatiche. Poi nelle motivazioni dei provvedimenti da Adamo e Deva, cioè sono tutti i dati. E quindi non si comprende che il primo trattamento di dato personale è la motivazione di un atto amministrativo e quindi il primo trattamento da minimizzare è proprio quale tipo di dati inserire lì dentro. Linguaggio, l'esattezza, ci metto quello che serve. La quarta lezione è la visibilità. La scrittura, la resa verbale, assume sempre più importanza. Direi che dal momento in cui comincio a mettere nero su bianco è la parola scritta che conta. Prima come ricerca di un equivalente dell'immagine visiva, poi come sviluppo e coerente dell'impostazione stilistica iniziale, e a poco a poco resta padrona del campo. Sarà la scrittura a guidare il racconto nella direzione in cui l'espressione verbale scorre più felicemente. E all'immaginazione visuale non resta che tenerle dietro. L'importanza delle procedure, di procedure ben scritte nell'organizzazione. Tutte queste cose le farete dell'amministrazione digitale soltanto se avrete rivisto i processi. Ci sono tanti workshop oggi in cui si parlerà di reingegnerizzazione e di riorganizzazione. E quindi la prima riorganizzazione parte da una procedura ben scritta, una procedura che non si capisce, che non è in grado di aiutare gli utenti, non arriverà a destinazione. Quinta lezione, molteplicità. La lettura vive solo se si pone degli obiettivi smisurati, anche al di là di ogni possibilità di realizzazione. Solo se poeti e scrittori si proporranno imprese che nessun altro osa immaginare, la letteratura continuerà ad avere una funzione. Da quando la scienza diffida dalle dispiegazioni generali e dalle soluzioni che non siano settoriali e specialistiche, la grande sfida per la letteratura è il sapertessere insieme diversi saperi e diversi codici in una visione plurima e sfaccettata del mondo. Questa lezione della molteplicità è fantastica. Io credo che ci potremmo parlare un'ora solo su questa slide. La prima, gli obiettivi. Allora, troppo spesso ho visto progetti di digitalizzazione fallire perché gli obiettivi erano a ribasso. Cioè se già gli obiettivi sono, che ne so, sostituire le firme del visto con 10 firme digitali, già è un disastro. Io devo essere ambizioso, devo provare a diminuire il numero di passaggi il più possibile. Devo essere ambizioso. Se sono ambizioso riuscirò ad ottenere un processo che funziona. E poi qui c'è il tema. Bisogna sapertessere insieme i diversi saperi. La multidisciplinarità del team, del lavoro, il coinvolgimento e l'interlocuzione con gli altri uffici è assolutamente centrale e importante. Voi sapete che queste erano le cinque, la sesta è postuma, la sesta si chiama coerenza. Però la cosa che mi piace sottolineare, ve l'ho citata, inizialmente si chiamava openness, open government, apertura. E un inizio è degno di questo nome quando avvia una selezione in grado di condurre ad una conclusione coerente. Che non vuol dire prevedibile, ma piuttosto riconducibile alle proprie premesse, alle aspettative che l'hanno generato. Quindi diciamo che questa, forse la sesta, è la più adatta ad augurarci e ad augurarvi buon lavoro. Perché parla dell'inizio. L'inizio significa darsi degli obiettivi e significa poi verificare che questi obiettivi siano stati realizzati. E la coerenza è apertura, apertura del processo, apertura a tutti gli interlocutori di trasformazione digitale, apertura ai vostri colleghi, apertura alle altre amministrazioni, apertura agli utenti e cittadini, apertura agli operatori di mercato che hanno nel rispetto dei ruoli voglia di collaborare con l'amministrazione. Grazie. 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 Grazie.